Ancora un episodio cruento avvenuto nella zona della stazione. Dopo il furto all'interno dell'autostazione che ha visto la titolare di un negozio di vestiti minacciata da un malvivente, ora la stazione di Trieste diventa scenario di una tentata rapina in pieno pomeriggio. Sono da poco passate le due del pomeriggio quando un uomo entra nel tabacchino all'interno della stazione. Si guarda attorno e con fare sospetto prende dei prodotti esposti all'interno della rivendita senza alcuna intenzione di pagarli. Come se non gli bastasse si rivolge alla proprietaria che forse stava cercando di difendersi e mettere al sicuro la propria merce, dapprima minacciandola e poi stratonandola. Momenti di tensione e panico per la proprietaria della tabaccheria che si è trovata in un faccia a faccia poco simpatico con il malvivente, un trentenne di origine bulgara. Proprio in quel momento stava passeggiando un ex maresciallo dell'arma dei carabinieri che pur essendo fuori servizio, accortosi di quanto stava accadendo, non ha esitato un attimo a gettarsi sul bulgaro e a immobilizzarlo. A quel punto accertatosi delle condizioni della titolare ha quindi chiamato i rinforzi che intervenuti subito sul posto hanno arrestato l'uomo escortato in carcere.